Adesso vado a mettermi ghiaccio sul cervello Ciao Simone, grazie di essere venuto al podcast Senti, volevo sapere che cos'è la lotta per la supremazia quantistica? Allora, prima di tutto grazie Daniele per il gentilissimo invito e per l'opportunità di parlare Senti, questo è un argomento di cui si parla molto sui media oggi Io risponderei nella seguente maniera Ti comincerei a dire un po' quello che è la computazione quantistica in generale E dove siamo oggi con la computazione quantistica E eventualmente quella che è l'opportunità della computazione quantistica E in questo modo ricollegarsi e forse provare a dare una risposta soddisfacente alla domanda che hai fatto Prima di tutto, computazione quantistica, che cos'è? Se ne sente parlare spesso, sempre di più, oggi Computazione quantistica è un campo a cavallo tra fisica, matematica, informatica e ingegneria Che si propone la seguente cosa Si propone di capire, innanzitutto, come immagazzinare, come processare, come trasmettere informazione Che è codificata in sistemi fisici quantistici Questi sono sistemi fisici, oggetti fisici Il cui comportamento è governato dalla meccanica quantistica Che è una teoria fisica Una teoria fisica molto profonda Che ha successo, tra l'altro Che è una teoria cominciata più di cent'anni fa a questo punto E che descrive il comportamento di cosa? Di atomi, di molecole, di fotoni, di elettroni, oggetti microscopici In un certo senso si può dire che la meccanica quantistica Descrive la realtà, la nostra realtà fisica, a livello fondamentale Mentre poi c'è la meccanica classica o fisica classica La fisica di Galileo, la fisica di Newton La fisica che esperiamo con i nostri sensi intorno a noi Che ha a che fare con il moto dei corpi Per esempio, una macchina in una strada Il comportamento è governato dalla legge della fisica classica Però se si prende un elettrone, un fotone Il comportamento è governato da quest'altra teoria fisica Che è la fisica quantistica Ora, la computazione quantistica Tornando a quello che stavo dicendo Si propone di capire cosa si può fare Una volta codificate informazioni in questi oggetti In questi sistemi Il comportamento è governato dalla legge di questa fisica particolare Cioè scusami se interroppo in pratica In due parole creare il computer quantistico Allora, il computer quantistico è una macchina Che utilizzerà Il cui comportamento sarà di nuovo governato Dalle leggi della meccanica quantistica Quindi una macchina Le cui componenti fondamentali Sono appunto elettroni Oppure fotoni Particelle, atomi, oggetti Che soddisfano le leggi della meccanica quantistica E quello che il computer quantistico è In un certo senso Concettualmente È diverso da qualsiasi altro tipo di computer Perché? Proprio perché la meccanica quantistica Permette di fare delle cose diverse Degli esempi Considera la componente fondamentale Di livello di informazione Per un computer tradizionale Quello che si chiama computer classico Allora, prima di tutto Tutti i computer che utilizziamo lì fuori adesso Sono computer tradizionali Se prendi un abaco Se prendi Se prendi un pezzo di corda con dei nodi È un computer classico Se prendi il computer portatile Che sto utilizzando io adesso Per parlare con te È un computer classico Oppure un super computer Che è in un In un centro dati Da qualche parte In un grande laboratorio di ricerca È un computer classico Perché? Scusami Perché poi spesso Nella vulgata Si immagina Chi proprio non conosce l'argomento Immagina che il computer quantistico Il calcolatore quantistico Sia semplicemente Un computer più potente In realtà non è questo il punto Non è questo il punto È un computer Che funziona in maniera diversa E cui componenti fondamentali Sono diversi Per un computer classico Le componenti fondamentali Sono i cosiddetti bit Che cos'è un bit? Un bit è qualsiasi oggetto Fisico Che può essere Che può essere preparato In uno o di due stati Diversi e distinguibili Attraverso un'osservazione Ti faccio un esempio Ho questa penna in mano Se tengo questa penna così Orizzontale Posso chiamare questo stato Stato zero Se metto la penna verticale Chiamo questo stato Stato uno E ho un bit Questo è zero Questo è uno Se ho tante penne E sposto queste penne Orizzontale e verticale Posso processare informazione Ovviamente in quel caso È il mio cervello Che processa informazione E la penna è soltanto Una rappresentazione Di queste informazioni Ma ogni computer classico All'interno contiene Che cosa? Nient'altro che Una sequenza di penne Orizzontale o verticale Organizzate in qualche modo Che è lo stato del computer Che cos'è la computazione? La computazione è Un processo Che prende un input Quindi una Una configurazione Più che sequenza Una configurazione di penne Orizzontali e verticali Una procedura Che modifica La configurazione di penne E che porta A una configurazione finale Che è chiamata output E noi Esseri umani Siamo in grado Di leggere La configurazione finale Osserviamo la configurazione finale Ecco per un computer Quantistico è diverso Perché la componente Fondamentale Viene chiamata Qubit E qui Il termine L'etimologia Non è Quantum bit O bit Quantistico Ma viene Da La parola Cubito Che è un termine latino Un'unità Di lunghezza Il Qubit È la componente Fondamentale Del computer Quantistico E che cos'è? È qualsiasi Come dicevo prima Il bit classico È qualsiasi oggetto fisico Che può essere preparato In uno di due stati Distinguibili Attraverso l'osservazione Il Qubit È qualsiasi oggetto Quantistico Che può essere preparato In uno di due stati Distinguibili Attraverso l'osservazione Ti faccio un esempio Un fotone Può essere polarizzato Può essere fatto passare Attraverso un filtro Che Gli dà Delle proprietà Particolari E questo filtro Può essere Può essere settato In modo da Dare una proprietà Che chiamiamo zero Una proprietà Che chiamiamo uno Consideriamo un elettrone In due livelli energetici Diversi Il livello basso Lo chiamiamo zero Il livello alto Lo chiamiamo uno Lo spin per esempio Spin su Lo chiamiamo uno Spin giù Lo chiamiamo zero Ecco Tutti questi oggetti Sono Concettualmente Qubit Per quante variabili ci sono Scusami perché Prima parlavamo di un sistema binario Sempre due Sempre due Perché alla fine Io come osservatore Classico E io come persona Posso distinguere Due stati Ora la cosa interessante Del qubit È che il qubit Può soddisfare Quello che è chiamato Il principio di sovrapposizione Che è Un 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 concetto Proprio della meccanica quantistica Che non appare Nel mondo classico Che cos'è Questo principio di sovrapposizione Possiamo preparare Lo stato del qubit In una configurazione Che Con una certa probabilità Quando osservato Sarà zero Con una certa probabilità Quando osservato Sarà uno Ora tu mi dirai Sì ma Anche lì fuori Nel mondo fisico Classico Piove con una certa probabilità Non piove con un'altra probabilità Ok Infatti La computazione quantistica In un certo senso È molto simile A quella che sarebbe La computazione Probabilistica Dove si può tirare Una moneta Ad ogni passo Da computazione Però Ontologicamente Il qubit È in uno stato diverso Alcuni dicono Eh Potrebbe essere preparato Nello stato zero E nello stato uno Allo stesso tempo Nota E Invece che O Come sarebbe Piove O non piove con una certa probabilità Ora Qui si entra In un discorso Che è un po' a cavallo Tra fisica e filosofia E L'idea che Alcuni dicono Ah la computazione quantistica È in grado Per alcuni problemi Di essere È in grado di risolvere Alcuni problemi In maniera più veloce Della computazione classica Perché Il qubit È zero e uno Allo stesso tempo Quindi c'è un grado Di parallelismo Maggiore Ecco Questo è un discorso Abbastanza complesso Perché più che essere Zero e uno stesso tempo È proprio in uno stato Ontologico diverso Ma scusami Infatti io Nella bozza Che ho avuto il piacere Di leggere Di un tuo Spero poi futuro libro Parlavi anche Appunto Dell'importanza Della fisica quantistica E poi della computazione Nel rapporto Col mondo Nella descrizione del mondo Che è un po' Quello che stavi dicendo tu Che è quindi un approccio Un po' diverso Rispetto invece A quella griglia Della fisica classica Sì Allora Diciamo che L'idea Che secondo me È molto importante Che la computazione Quantistica Ha Ha fatto crescere Negli ultimi Negli ultimi vent'anni Forse Forse anche più Negli ultimi vent'anni Infatti È questa idea Che La computazione Non può essere Considerata Disgiunta Dal mondo fisico Se tu pensi Alla computazione Puoi anche pensare A qualcosa di astrato Per esempio Un algoritmo Che cos'è un algoritmo? Un algoritmo È quasi una ricetta Di cucina No? È una sequenza Di operazioni Come dicevamo prima Su un certo Che può essere formalizzata In maniera stratta Prendi la macchina Di teori No? Che cosa è la macchina Di teori? La macchina di teori è un nastro Infinito Con un pennino Che può spostarsi A sinistra e a destra Su delle caselle Del nastro E scrivere Cancellare La macchina di teori Permette di Di implementare Qualsiasi tipo di computazione Infatti si dice Che è un computer universale Universale significa Che ogni Tipo di computazione E questo diciamo È un po' Un'ipotesi Ogni Ogni tipo di computazione Che è plausibile Allora È implementata Dalla macchina di teori Bene Questo è un oggetto astratto Perché Per esempio Il nastro è infinito Non si parla Di fisica Concreta Di mondo reale Però Nel momento in cui Si vuole costruire Un computer Bisogna anche avere a che fare Con le leggi della fisica Perché il computer Esiste nel mondo fisico reale La computazione Unantistica Durante la sua La sua crescita storica E si parte un po' Dagli anni settanta Quando Quando Fisici cominciavano A utilizzare computer Quando si parlava Di computazione reversibile Quando si parlava Di complessità E così via L'idea L'idea Centrale Che sta Spinta Un po' Della computazione Quantistica È che Computare È un processo Fisico E che Non possiamo Pensare alla computazione Soltanto in maniera Stratta Ma dobbiamo Considerare La fisica Del computer Che costruiamo E se Cambiamo le leggi Della fisica Allora cambiamo Anche quello Anche quello Che possiamo Computare E questo È l'esempio Maggiore Che vediamo Oggi Da un lato La computazione Classica Come dicevo Prima Che è governata Dalle leggi Della fisica Classica E dal lato La computazione Quantistica Ora Va detto Che Quest'idea Si può Anche spingere Oltre Possiamo inventare Anche delle Fisiche A tavolino Che Che non sono Probabilmente Che non hanno Niente magari A che fare Con il mondo Fisico Che noi In cui noi Viviamo Ma che Soddisfano Delle regole Matematiche Delle regole Logiche E Quest'idea Ci permette Anche di capire Meglio la computazione Stessa E in un certo senso Anche la fisica Ti faccio un esempio Se noi potessimo Viaggiare nel tempo Per esempio Avessimo una macchina Nel tempo Allora saremo In grado E questo si può Dimostrare Di risolvere Dei problemi Computazionali Estremamente Complessi In un tempo Ridottissimo E questo In un certo senso È Non voglio Usare il termine Paradossale È implausibile Dal punto di vista Computazionale E Perciò Come se L'idea Computazionale Una volta Scelta una fisica Che forse Non è La fisica Reale L'idea Computazionale Ha un effetto Sulla fisica Stessa Ovvero Con buona probabilità Non si può Viaggiare nel tempo Perché Se potessi Viaggiare nel tempo Allora potremmo Risolvere Dei problemi Computazionali In modo Veloce E Congietturalmente Questo non Sembra possibile Però scusami Per quanto riguarda La computazione Diciamo che Deve utilizzare Come dicevi prima Poi dei Diciamo Dei supporti Fisici Ci sono Poi dei Limiti Legati Anche A questo Cioè Il fatto Che Ci sono Tanti Quelli Che si chiamano I No-Go-Theorems O limiti Fisici Stessi Per esempio Immagazzinare Informazione Quanta Informazione Si può Immagazzinare In un Blocchetto Di Materia Quello Si chiama Il limite Di Beckenstein Per esempio Ci dice Guarda Non puoi Mettere Più Di un Certo Tipo Una Certa Quantità Di Informazione In Questo Volume Di Spazio Considerando Un Certo Tipo Di Fisica Cambiando Le regole Fisica Si può Cambiare Anche Quello Ovviamente Vedi Secondo me La cosa Interessante La computazione Quantistica E poi Torniamo Al discorso Della Ho parlato Assolutamente Non c'è Fretta Concettualmente La computazione Quantistica Permette Di Vedere Un'interfaccia Tra computazione Fisica Che prima Non esisteva E questa Secondo me È un'opportunità Molto importante Perché può Permettere Di Vedere Il mondo Attraverso La lente Della computazione E quindi Permette Di vedere La fisica In un modo Diverso E ogni volta Che mettiamo Insieme Campi Diversi In quell'interfaccia Succede una cosa Interessante Che possono portare Scoperte nuove Innovazione E forse Comprensione Del mondo Che prima Non avevamo Certo Sì Questo è proprio Il nodo Filosofico Della questione È lì che Come dicevi Tu prima Le due cose Si uniscono Un po' La fisica E la filosofia In questo In questo punto Preciso Beh Appunto Dicevamo La lotta Per la supremazia Quantistica Ok Allora Tornando al computer Quantistico Il computer quantistico È interessante Perché Perché è stato dimostrato Dal punto di vista Matematico Che Se avessimo Un computer quantistico Sufficientemente grande Quando dico Sufficientemente grande Con un numero Sufficiente di Qubit Ovvero Un computer quantistico Che Dal punto di vista Fisico Contiene Come Supponiamo Supponiamo Che il qubit In quel caso È Un elettrone Può manipolare Tanti Tanti elettroni Ma si parla Di milioni Di elettroni Ok Come qubits Supponiamo Di avere Questo Questo computer Quantistico Allora È stato dimostrato Dal punto di vista Matematico Che Alcuni problemi Computazionali Possono essere risolti In maniera Più veloce Ti faccio Un esempio Questo è L'esempio Che a me Non piace molto Perché in un certo senso È quasi Un incidente Di percorso Che Storicamente Questo È stato un problema Che Per cui il computer Quantistico Gli mostra un vantaggio Il problema è il seguente Se tu mi dai Un Un numero Non lo so 15 E mi dici Simone Mi dai Indietro I due numeri Primi Più grandi Che moltiplicati Tra loro Mi danno Il numero 15 Questo è la storia È banale 5 e 3 La moltiplicazione È semplice Infatti Io mi ricordo Anche a scuola Quando si faceva La moltiplicazione Metti I numeri Uno sopra L'altro C'è un algoritmo Facile Che possiamo Fare Quindi Da un lato Se tu mi dai due numeri Moltiplicarli È semplice Però se tu mi dai Un numero E mi dici Mi dai indietro I due numeri Più grandi Che moltiplicati Tra loro Danno quel numero Ecco Questo è un problema Che Non sembra facile È un problema Che È Congetturalmente Considerato Complesso Complesso Significa che ci vuole Un sacco di tempo Per un computer Come lunghezza Dell'input Lunghezza dell'input Significa Il numero Di Di La lunghezza La lunghezza Del numero In inglese Si viene Digits In italiano Sono le Le cifre Scusami Le cifre Quindi In funzione Alla lunghezza In funzione Alla lunghezza Il numero Delle cifre La complessità Di questo problema Diventa Maggiore Guarda Qua dietro Una lavagna Tu prendi Questa è La lunghezza Dell'input E questo è il tempo Per risolvere questo problema Insomma Si va un po' così Ok Quindi aumenta molto Lo dico per chi Invece segue il podcast Solo in audio Cos'è? È un andamento esponenziale Quello? È un andamento Un andamento Sì Chiamiamolo esponenziale Un andamento Che Molto Molto Velocemente Va su Schizza su Ecco Questo problema Si chiama Fattorizzazione È un problema Molto interessante Perché Perché Alcuni Protocolli Per mettere in sicurezza L'informazione Che utilizziamo oggi Si basano proprio sul fatto Che risolvere questo problema Non è semplice C'è un algoritmo Quantistico Ovvero un algoritmo Che viene Una procedura Che alla fine È una sequenza Di operazioni fisiche Su un sistema Visio quantistico Che chiamiamo Computer quantistico Che si chiama Algoritmo di Shorla Il nome della persona Che l'ha scoperto O inventato Difende Qual è il tuo approccio All'invenzione in matematica Alla scoperta Ok Che risolve questo problema In un modo Che non è così Che non richiede così Tanti passi No Diciamo che va un po' Va un po' Più Più schiacciata Ok scusami Ma quell'andamento presente Ha qualcosa a che fare Con la famosa Parabola Del Di granelli di sabbia Sulla scacchiera La parola di granelli di sabbia Sulla scacchiera Ha a che fare Con una crescita esponenziale Certo Perché L'idea che hai Un granello A1 Due granelli A2 Quattro granelli A3 E così via E dual N Certo Dual N Infatti È una crescita esponenziale Sì Ha a che fare Con l'idea Di crescita esponenziale Mentre quest'altro tipo di crescita È più schiacciata E si può approcciare Probabilmente con un computer Senza aspettare un milione di anni Perché ovviamente Quando si parla di computazione Si può anche parlare di Milioni di anni Si può parlare di un computer Grande come la galassia Che richiede l'età dell'universo Per risolvere un problema Insomma Non c'è limite Superiore A questo Anche perché Se consideri Se Supponiamo che Ci sono dei problemi lì fuori Per cui Questo N Se N è 50 per esempio 2 alla 50 È il numero di atomi Che compone il pianeta Terra Quindi Se si servisse Magari un computer Che richiede Una memoria Di 2 alla 50 Bit Per ogni atomo Hai un bit Insomma Ti serve un computer Grosso come il nostro pianeta E il 50 È un numero abbastanza piccolo Effettivamente Se consideri E poi torniamo su questo argomento Magari dopo Quando Magari ti posso dire Quelli che sono Secondo me Le aree Dove il computer quantistico Potrebbe avere un impatto Interessante in futuro Ma comunque Tornando al discorso Della fattualizzazione Cioè questo algoritmo Quantistico Che cos'è un algoritmo Quantistico Una procedura Che processi informazione Attraverso il computer Quantistico Modificando Questi stati fisici Del sistema quantistico Ecco Quell'algoritmo Permette Di schiacciare Un po' Questa curva Quindi Tutto ad un tratto Questi Questo Questi Protocolli Che Vengono utilizzati Oggi Per mettere in sicurezza Di informazione Non sono più sicuri Perché Prima Uno diceva Siamo al sicuro Perché ci vuole Troppo tempo Per un computer Per risolvere il problema Adesso invece No Ok Un computer quantistico Che può risolvere Questo problema Ancora non esiste Infatti Questo è un risultato Puramente matematico Ma un risultato Che ha Generato un sacco Di interesse Perché fa vedere Che Se tu prendi L'insieme di tutti I problemi Computazionali Ok Infatti Guarda Te lo posso Anche disegnare Qui sulla lavagna Questo lo cancello I grandi I grandi mezzi Ad Amazon Non avete La spugnetta Questo è L'insieme Di tutti i problemi Computazionali Questo è L'insieme Dei problemi Computazionali Che Un computer Tradizionale È in grado Di risolvere In maniera efficiente Quindi Dove efficiente Significa In soldoni Il computer Non ci mette Troppo tempo Insomma ci mette Un tempo ragionevole Ok Non più vite umane Diciamo Non più vite Esatto Quassù Ci sarà Una zona Di problemi Che sono Difficili Congetturalmente Di nuovo Per un computer Tradizionale Per esempio Allora qui ci posso mettere Per esempio L'addizione No Quassù ci posso mettere Per esempio Il problema Del commesso viaggiatore Qual è il problema Qual è il problema Del commesso viaggiatore L'insieme di città Ah ok Una mappa E la domanda è Qual è Il percorso Più breve Per visitare Ogni città Una volta E tornare Alla città Da cui siamo partiti Passando però Una volta sola Da ogni città Giusto? Esatto E farlo In una maniera Più breve possibile Questo si chiama Il problema Del commesso viaggiatore E' un problema Complesso Complesso Significa che Che la crescita La crescita Del numero di passi Che serve a un computer Per risolvere Per questo problema E' esponenziale Come si diceva prima Questo dual n Dove n sarà Il numero di città Ecco qui Ci saranno questi problemi Che sono Sono difficili Per un computer tradizionale Per un computer classico Ecco La computazione quantistica Sembra E questo diagramma Che sto facendo Di nuovo Riuso questo termine Che uso spesso Congetturale Perché alla fine Si parla di qualcosa Che ha a che fare Con una descrizione matematica Ma che poi Quando si va nel mondo reale Bisogna lavorarci Per costruire delle macchie Certo Ecco la computazione Che ancora non ci sono Diciamo Quelle a cui state lavorando Ancora non ci sono Ecco la computazione quantistica Probabilmente Sarà in grado Di risolvere In maniera efficiente Un certo numero Di problemi All'interno di questo Di questo insieme Di tutti i problemi Che magari è un po' più largo Sì Dell'insieme di problemi Che vengono risolti In maniera efficiente Da computer tradizionali Ok Quindi E qui sarà In questa zona qui Che ho Che ho Annerito Ci sarà La zona del vantaggio Del vantaggio quantistico E la zona in cui I computer quantistici Sono in grado di fare Delle cose Che i computer tradizionali Non sono in grado di fare E qui si ritorna Al discorso Scusa un attimo Quindi per chi Si sta seguendo in audio Diciamo L'insieme dei problemi Risolvibili In maniera più efficiente Con le computazioni quantistiche È un po' più grande Di quello Dei computer classici Ma comunque più piccolo Dei problemi in assoluto Di calcolo Che ci possono essere Diciamo Sì È chiaro che Tutto qua Adesso per chi ci sta Vedendo YouTube Sembra cosa assurda Ma sto traducendo Diciamo Lo schema Il disegno che hai fatto Perché invece Si ascolta solo in audio Sì Ecco Ecco La cosa interessante È che Non bisogna Considerare il computer quantistico Come una specie di Di panacea Che per qualsiasi Qualsiasi problema Il computer quantistico Lo risolverai In maniera più efficiente Mi dai qualsiasi problema Ah il computer quantistico È meglio del computer Direzionale No Ci saranno però E questo lo vedremo Nel momento in cui Un computer quantistico Sufficientemente grande È stato costruito Dei problemi Che matematicamente Sono dimostrati Essere risolvibili In maniera più efficiente Attraverso il computer quantistico Uno di questi problemi È effettivamente Il problema Della fattorizzazione Degli interi Come dicevo prima È quasi un incidente Di percorso Che questo problema In particolare Sia stato Al centro Dell'interesse Che è cresciuto Intorno alla computazione Quantistica Perché? Perché l'idea Originaria Della computazione Quantistica Ha a che fare Con Processare Informazione Con due Entripsi Quantici Ci va Torna indietro A Richard Feynman Che era Un fisico Americano Premio Nobel Per la fisica Che aveva La seguente Che ebbe La seguente Intuizione Un'intuizione Che alla fine Fu generata Da quello che è Lo zeitgeist Di quel periodo Storico Scientifico Che Se si vuole Se si vuole Simulare Se si vuole Rappresentare Che significa Simulare Simulare È Rappresentare Forse queste sono due Non so se sono due Vedere anche I comportamenti Ipotetici Immagino Sì Grazie Se si vuole Simulare Il comportamento Un sistema Quantistico Per esempio Una molecola Una molecola Evolve nel tempo Oppure prende molecole C'è una reazione chimica Quello che sia Vogliamo capire Quello che succederà Ok Vogliamo Infatti In un certo senso Forse simulare Se uno volesse dare Una buona definizione Rappresentare Per essere in order Di predire Quello che succederà Sì esatto Cioè diciamo C'è la componente Di futuro Cercare di capire Cosa potrebbe succedere Anche un po' In un modello Di quel tipo Ecco Una molecola Qual è la dinamica Di questa molecola Esatto Se si vuole Se si vuole Simulare Questo Una dinamica Molecolare Con un computer Per ogni Per ogni elettrone Bisogna In più Bisogna raddoppiare La memoria del computer E qui si ritorna A quel discorso Delle esponenziali Che dicevamo prima Quindi Se una molecola 50 elettroni Bisogna Avere una memoria Di 2 alla 50 bit Che insomma È abbastanza notevole Una molecola Con 1000 elettroni Avrei bisogno Di una memoria Di 2 alla 1000 bit E penso che 2 alla 1000 È più piccolo Del numero Di Atomi Che compone L'universo Visibile Probabilmente Quindi Servirebbe un computer Al di fuori Dell'immaginazione umana No Però Se prendiamo Un sistema visico Quantistico Con 1000 qubit Quindi Un sistema visico Quantistico Che rappresenta Direttamente Copia In un certo senso Quello che è L'oggetto Che noi vogliamo simulare Allora Possiamo simularlo Senza Questa Scoppio Esponenziale Di memoria E questa è L'intuizione fondamentale Che c'è alla base Della computazione Quantistica Al di fuori Del discorso Del fattorizzare Gli interi Ok È un'idea Molto bella Perché Perché Ci Indica Che Probabilmente L'applicazione Centrale Del computer Quantistico Sarà proprio Simulare Sistemi fisici Quantistici E a me piace Vedere Questa Quest'idea Un po' come Gli alchimisti Nel medievo Che volevano Prendere Prendere un pezzo Di piombo E trasformarlo In oro In qualche modo Ecco Il computer Quantistico Non farà questo Ma ci permetterà Di Esplorare La fisica Dell'oro Per dire In un modo Che non abbiamo Potuto fare prima Perché era impossibile Da simulare Quindi Ci permetterà Di scoprire Magari Delle proprietà fisiche Che non conosciamo Ancora Infatti Quando le persone Parano Qual è l'applicazione Migliore del computer Quantistico Ma oggi L'applicazione migliore Del computer Quantistico È capire meglio Come saranno I computer Quantistici Del futuro Ok E E E studiare L'interfaccia Tra fisica E computazione Sì Ok Però Quindi diciamo Un aspetto Quasi di meta Computazione In un certo senso Sì Un aspetto Esplorativo Un aspetto Esplorativo Scientifico E poi Sai Si legge Spesso Nei media Ah il computer Quantistico Oggi permette Di fare A, B e C Permette di Risolvere Il problema Del Per esempio Si parla spesso Di scoprire Medicina In maniera più veloce Del drug discovery In inglese Lo chiamano Comunque Scusami Si vede che Vivi in America Perché ti posso garantire Che sui media Italiani Non credo A parte quelli Proprio di settore Non se ne sente Mai parlare Di questa cosa In un certo senso Quasi meglio Perché Ti ha Un'impressione Che la computazione Quantistica Abbia un impatto Immediato Commerciale Per esempio Cosa che Invece Richiederà Richiederà Molto lavoro Richiederà Scoperta scientifica Richiederà Innovazione Tecnologica Alla fine Dal punto di vista Ingegneristico E quello che sia Comunque Sulla lunga distanza L'applicazione Principe Che almeno A me piace Moltissimo L'idea Di vedere Il computer Quantistico Come Un Un certo senso Come Un telescopio Il telescopio Ti permette Di guardare Più lontano E il computer Quantistico Ti permette Di manipolare La materia A livello Fondamentale In modi Che non abbiamo Potuto fare Prima Perché Computazionalmente Non era Fattibile Quindi Scoprire Magari Nuove proprietà Electromagnetiche Nuove Configurazioni Della materia Scoprire Nuovi materiali Prima ho menzionato Scoprire nuove medicine Certo Perché Alla fine Per scoprire nuove medicine Bisogna anche Simulare Reazioni chimiche Bisogna capire Come Evolvono Dinamiche molecolari E il computer Quantistico Ci permetterà Di farlo In modi Che adesso Non sono fattibili Perché ritiene Troppo tempo A un computer Tradizionale Questo però Mi dicevo Richiederà Molto tempo Perché ancora C'è bisogno Di scoperto Scientifica Innovazione Tecnologica Tornando Finalmente Alla tua Primissima domanda Il discorso Del Non userei Il termine Supremacia Userei Il termine Vantaggio Vantaggio Quantistico Ecco Se siamo In quella zona Al di là Dei problemi Che un computer Tradizionale Può risolvere In maniera efficiente Quella è la zona In cui Il computer Quantistico Ha un'opportunità Questa zona Però ancora Va scoperta Non sappiamo Non sappiamo Quanto grande Sia questa zona E Non sappiamo Soprattutto Se ci sono Dei problemi Interessanti Che il computer Quantistico Può risolvere In quella zona Per esempio Oggi sono stati Fatti soltanto Degli esperimenti Con dei problemi Che sono Degli Artifatti Matematici Che non hanno Valore Commerciale O anche Valore applicativo Ad esempio Però Se è possibile Diciamo Spiegarlo Semplicemente Sì Adesso I computer Quantistici Che sono stati Costruiti Finora Specificatamente Ci sono due Tipi Di macchine Che hanno Avuto a che fare Un po' Con Lo spingere La nostra Conoscenza Della computazione Quantistica Oltre La computazione Classica Per quello che Mi hanno chiamato Il vantaggio Quantistico Sono costruite O con Superconduttori O con La luce Con Dei computer Ottici Ecco Queste macchine Sono state In grado Di Esemplare Forse Questo non è Un termine Italiano Corretto Campionare Da Distribuzione Di probabilità Che Se venissero Costruite Attraverso Un computer Tradizionale Richiederebbe Molto più Tempo Di quello Che serve Al computer Quantistico Per Campionarle Però Queste sono Distribuzioni Di probabilità Che alla fine Non servono A brutto dire Non servono A niente Però Sono Non risolvono Dei problemi Concreti Dei problemi Che hanno Un'applicazione Ok Però Poi Diciamo C'è questo Campo In cui Come Insomma Hai spiegato Estesamente Fino adesso Ci può essere Un'applicazione Almeno In teoria Però Invece Per i compiti Classici Del computer Come quelli Che stiamo Usando Adesso Io e te Per parlare Da una parte D'altra Del mondo Per questo Non ha Non ha Alcuna utilità Il computer Quantistico Allora Il computer Quantistico Risolverà Dei problemi In maniera Più efficiente In maniera Più veloce Di computer Tradizionali Se la domanda È Cioè La classe Dei problemi Però È diversa Nel senso Quindi Non è la stessa No no Questo è lo stesso Universo Dei problemi Sono problemi Computazionali Qualsiasi sia Se Questo ci porta La domanda Del tipo Il computer Quantistico Rimpiazzerà Il computer Tradizionale Assolutamente No Il computer Quantistico E ora Magari Assolutamente No Poi tra vent'anni Riparliamo Ah hai visto Si muore Assolutamente No Perché Infatti Molto probabilmente Per la gran parte Dei problemi Che Affrontiamo E affronteremo Il computer Tradizionale I super computer Quello che sia Che è lì fuori Saranno 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 Sufficienti In un certo senso Anche migliori Per esempio Si parla spesso Di intelligenza Artificiale Se uno vuole Prendere una grossa quantità Di dati E Darla come input A un computer Quantistico Questa è ancora una cosa Che nessuno sa davvero Come farlo Perché questi dati Se vengono dal mondo Fisico reale Dal mondo classico Come immagini Per esempio Una Una lista lunghissima Di numeri Tradurre questo In uno stato Visico quantistico Includere questo In uno stato Visico quantistico Non è banale Probabilmente Il vantaggio Della composizione Quantistica Verrebbe cancellato Dal tempo Che serve Proprio per fare Il passaggio Di linguaggio Diciamo Per caricare Questa informazione Che non è informazione Che viene dal mondo Quantistico Però Secondo me E questa è un po' L'idea Il consenso Che c'è nella comunità Scientifica Il computer quantistico Non rimpiazzerà Il computer tradizionale Poi c'è anche la domanda Ah ma il computer quantistico Un giorno sarà Sul nostro tavolo Avremo il laptop quantistico Altamente implausibile Perché? Perché questi Sono oggetti Pranzitutto Molto complessi Ci sono dei computer quantistici Che devono lavorare Per esempio A temperature Criogeniche Quasi vicino Allo zero assoluto Perché hanno Dentro come componente Fondamentali Dei pezzi Di materiale Superconduttivo Che per essere Un superconduttore Deve appunto Essere raffreddato Vicino Allo zero assoluto E questa non è una cosa Che si può fare A casa Ci vuole un Refrigeratore Molto speciale Per farlo C'è uno dei computer quantistici Che per esempio Entrappolano Degli ioni Degli atomi Con una carica elettrica E caricano Questi ioni Modificano Questi ioni Attraverso Dei laser Cosa che Richiede Richiede Un certo Spazio Richiede Richiede Un ambiente Molto specifico Anche se la tecnologia Magari avanzerà E saremo in grado Di miniaturizzare Questi oggetti Quello che sia Può ridurre La complessità Per manipolare I sistemi VG Comunque Questi saranno Dei computer Che verranno utilizzati Soltanto per problemi Ad hoc Per problemi Molto specifici Quindi Non è che Ci spederemo L'email Io e te Utilizzando un computer Statistico Ok O al massimo Per cercare di Craccare Qualche Conto in banca Sì È un po' Un'applicazione Abbastanza triste A me piace Molto più L'idea Che A un certo punto Il computer Quantistico Sarà un oggetto Che ci permetterà Di scoprire Nuova fisica Ci permetterà Magari Di avere Un impatto Che ha valore Sociale Piuttosto che Piuttosto che E tra l'altro Va anche detto Che Anche se c'è Tutto questo Parlare di Ah il computer Quantistico Potrebbe essere Una potenziale Minaccia La sicurezza Informatica Ci sono Già un sacco Di strategie Lì fuori Che Le persone Stanno implementando Le aziende Stanno implementando Quella che si chiama La post quantum Cryptography Cryptography Dopo il computer Quantistico Che permette Già di Di mettere in sicurezza Di mettere in sicurezza L'informazione Perché si basa Su protocolli Che sembrano essere Forti Ad attacchi Forti contro Attacchi quantistici Per esempio Questa è una cosa Che è stata anche Fatta qui Ad AWS Che è abbastanza Importante Importante Perché Perché C'è quest'idea Che anche se Ci sarà un computer Quantistico In grado di Decodificare Questi Protocolli Magari tra vent'anni Però Qualcuno potrebbe Magari Prendere Informazione Adesso Mantenerela Per vent'anni E tra vent'anni Sapere quello Che facevi oggi Quindi è già bene Cominciare A mettere in sicurezza L'informazione E si capisce Se Questo potrebbe Avere un impatto Anche sulla Blockchain Senti Questo è un argomento Che conosco Molto poco So So per sentito Dire Che ci sono Dei Dei Degli approcci Che Permettono Di mettere In sicurezza Anche Algoritmi Protocolli Collegati Alla Blockchain Contro Attacchi Quantistici Però Questo è un argomento Che conosco Molto poco Dovrei studiarlo Per Per avere una Convertizione Diciamo Poi L'argomento La lotta In questo momento Diciamo Quelle due posizioni Più avanzate Sono Un'azienda Americana Che non so se puoi nominare E la Cina In questo momento E' corretto Questa Io non parlerei Di lotta Perché Perché Innanzitutto Ci sono tanti approcci Diversi Per costruire Il computer Quantistico E C'è un sacco Di collaborazioni Diverse C'è Innovazione Che avviene A livello Universitario Che avviene A livello Di laboratori Nazionali Che avviene A livello Di Startup Anche Ci sono Un sacco Di start up Che stanno Costruendo Dei computer Quantistici Oggi Per esempio Noi AWS In italiano AWS Abbiamo lanciato Un servizio Cloud Che permette A Qualsiasi Persona Di Di Vedere Dove La tecnologia Oggi In computazione Quantistica Uno si può Collegare Alla console Di AWS E utilizzare Dei computer Quantistici Costruiti Oggi E computer Quantistici Disponibili Su questo Servizio Che si chiama Bracket Bracket È Il nome Della notazione Fisica Per Per scrivere Gli stati Fisici Quantistici Notazione Di Dirac Originariamente Dirac Fu un premio Nobel Per la fisica Uno dei Dei fondatori Della meccanica Questa scusami È un progetto Che hai Come diciamo Portato avanti tu In prima persona Quello È Con il nostro Gruppo Qui negli Stati Uniti Bracket È un Servizio Di AWS Che come dicevo Permette di accedere A computer Quantistici Costruiti Oggi E infatti Questi computer Quantistici Sono costruiti Da start-up Adesso ce ne abbiamo Di tre tipi Uno costruito Da una start-up Che è in Maryland Che si chiama IonQ Basato su Trappi di Ioni Uno costruito Da una start-up Che si chiama Rigetti Che è a Berkeley In California E uno Da una start-up Che si chiama D-Wave Che è a Vancouver In Canada Gli ultimi due Sono macchine Un po' diverse Ma si basano Entrambi Su superconduttori Questo per dare Un po' Una finestra Su dove è La tecnologia Oggi E rendere Semplice L'accesso Come dicevo C'è così tanta Innovazione In industria Università Che alla fine Parlare di Parlare di Lota Secondo me È un po' Una cattiva Caratterizzazione Di quello Che succede Lì fuori Una forzatura Giornalistica Diciamo A me piace Un po' Considerare Questa Come una Scommessa Dell'umanità Per un po' Come andare Sulla luna Per esempio Sicuramente Sì Andare sulla luna Alla fine Ci saranno Dei protagonisti Che si vogliono Facere del fatto Che sono stati Sulla luna Però Alla fine E onestamente Forse non so Se questa sia Una Analogia Buona Perché Ci possiamo Anche chiedere Ok Qual è L'impatto Dell'andare Sulla luna L'impatto Del computer Quantistico Spero Speriamo Sia importante Perché se alla fine Possiamo fare delle cose Che i computer Tradizionali Non possono fare Questo dovrebbe avere Un impatto Societario Importante E dovrebbe essere Una scommessa Alla fine Che ha a che fare Con tutta l'umanità Piuttosto che Guardare a competizione Tra organizzazioni diverse E siccome questi computer Possono essere costruiti In tanti modi diversi Ci saranno anche Tanti vincitori diversi Probabilmente Ci saranno macchine Costruite con una certa Tecnologia Che forse saranno in grado Di fare delle cose Macchine costruite con un'altra Tecnologia Che saranno in grado Di fare altre cose E così via Quindi Secondo me è bene Avere un po' Questa prospettiva Ottimista E aperta Però tu prima dicevi Che non esistono ancora Computer quantistici Quindi quelli A cui siete collegati Voi cosa sono? Senti Allora La La Diciamo L'espressione Computer quantistici Non esistono Che ho utilizzato Non è corretta Esistono computer quantistici Che sono Molto piccoli Che E dove piccolo Significa il numero Di qubit Che possono manipolare Il numero di qubit Che li compongono A che numero siamo adesso? Più o meno? Tra i 10 e i 100 Circa Siamo in questa fase Che John Preskill Che è un fisico Che lavora A Caltech California Institute of Technology Vicino a Los Angeles E che lavora anche Nel nostro Nel nostro gruppo Al centro AWS Per la composizione quantistica Che è nel campus di Caltech John Preskill Ha chiamato questa fase NISC Dove NISC Sta per Noisy Intermediate Scale Quantum Che è Computer quantistici Rumorosi Di scala intermedia Ok In questa fase C'è un problema col rumore Diciamo Sì Perché E questo è un argomento Di cui abbiamo parlato Assolutamente Un argomento di cui Si potrebbe discutere Per un paio d'ore Allora Perché è così difficile Costruire un computer quantistico? No Questa è una cosa Che non abbiamo menzionato Se si considera Un oggetto fisico quantistico E' inerentemente rumoroso C'è un Se Se Hai un qubit In una sovrapposizione Si parla prima di principi di sovrapposizione Diciamo 0 e 1 In questo stato fisico quantistico Che non esiste nel mondo classico Ovvero 0 e userò Magari in maniera non troppo precisa E 1 Allo stesso tempo Ok? Mettiamola così Ecco Questo oggetto Tenderà in maniera Molto veloce A perdere questa proprietà E ad essere O 0 O 1 Con una certa probabilità E la scommessa maggiore E mantenerlo In questo stato Speciale Prezioso Che è La sovrapposizione Tra 0 e 1 E questo è quello che permette Questo Quest'idea di parallelismo In un certo senso Poi si può anche parlare Di quello che sono Magari gli ingredienti fondamentali Da computazione quantistica Perché la computazione quantistica Magari in certi casi Permette di risolvere il problema In maniera più efficiente Questo è tutto un discorso Se magari possiamo Discuterne Ma Perché è difficile Mantenere questo Questo stato Così speciale Perché Il mondo fisico Quantistico In È È soggetto A un rumore Un'idea che si chiama Decoerenza Infatti Questo è il termine tecnico Che distrugge questo stato E lo fa diventare Uno stato semplicemente Probabilistico 0 Con una probabilità O 1 Con un'altra probabilità E mantenere Il sistema Coerente Ovvero Non Ovvero In una sovrapposizione È difficile E questa è La ragione Una delle ragioni Infatti Per cui È complessa È difficile Costruire un computer Fisico quantistico Quindi i computer Costruiti oggi Hanno pochi Di questi qubits Mentre Un computer Che risolverà Dei problemi Effettivamente Interessanti Dovrà avere Milioni di qubits Forse Forse Potremmo fare Qualcosa interessante Anche con Alcune migliaia Di qubits Ma questo è poco chiaro Questa fase NISC È la fase In cui Computer quantistico Ci avranno Diciamo Tra Qualche qubit Fino magari A qualche migliaio Di qubit Fino Probabilmente A Sì Qualche migliaio Di qubit E in questa fase Ancora non è chiaro Se Tali macchine Saranno in grado Di risolvere Dei problemi Che magari Hanno un valore Commerciale O comunque Oppure Che daranno un vantaggio Rispetto a dei problemi Che sono Applicativi Che sono utili Al di là di questo Ci sono altri tipi Di computer quantistici Che sono i computer Quantistici Più grandi Che Che permettono Invece di Correggere L'errore Che viene introdotto Da questa La chiamerei anche In un certo senso Transizione di fase Tra la situazione Tra il mondo fisico Quantistico E il mondo fisico Classico Ok E Per correggere L'errore Bisogna avere Una ridondanza Nel numero Di qubit Che significa Correggere l'errore Per esempio Quando parliamo Io e te Al telefono Tu mi dici una cosa Io non la capisco Dico scusami La ripeti Se la ripeti Quattro volte È come se hai Un B Quattro copie Dello stesso messaggio E quindi Se uno di questi Se ognuno di questi messaggi Magari è cambiato In qualche modo Però siamo in grado Di ricostruire Il messaggio iniziale Ecco Quello che serve E questo è quello Che viene fatto In continuazione In computazione tradizionale O comunicazione Bisogna utilizzare I codici Per correggere l'errore Ecco Nel mondo quantistico Sono necessari Anche questi codici Per correggere l'errore In un computer quantistico Però lì c'è un caveat Interessante Che Mentre nel mondo classico Possiamo aggiungere Questa ridondanza Ovvero Fare copie Dei bit Nel mondo fisico quantistico Non possiamo farlo Perché c'è un Un teorema Che però è un fatto fisico Alla fine Che si chiama No clone Niente clonazione Ovvero che significa Che se Che io non posso copiare E uno stato quantistico E uno stato quantistico Che non conosco Non c'è una Una fotocopiatrice Per stati quantistici Ok Quindi significa che Se ho un qubit E dico ok Magari questo qubit È rumoroso E ne perderò Lo stag Ne perderò L'informazione contenuta L'informazione Che contiene In brevissimo tempo Allora perché non lo copio Tante volte Non posso farlo Allora Per architettare Un codice Per la correzione D'errore Devo fare cose diverse Che sono più complesse Non sono meramente Il copiare L'informazione stessa Però Per risolvere problemi Importanti In competizione quantistica Sappiamo Di nuovo Da punto di vista matematica Che stava dimostrato Che ci vuole un computer quantistico Che sia Che tolleri gli errori Quello che in inglese Si dice Fault tolerant E Questo computer quantistico Dovrà avere Un sacco di qubit Perché Per ogni qubit logico Ovvero Il qubit Che Preserve informazione Senza errore Ci vorranno Tanti qubits fisici E qui è la ridondanza Però questi qubits fisici Non sono una copia Del qubit logico Ma sono Sono qubit Che interagiscono Allora in modo In modi particolari Per 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 riuscire A mantenere L'errore A livello più basso possibile Scusate Ti faccio una domanda Veramente da ignorante Ma da un qubit Che è in questo stato Sospeso Fra due valori Diciamo Chiamiamolo La macchina Un oggetto fisico Che a me Che a me onestamente Non piace molto Diceva Diceva Stifeno Ogni volta Che sento parola Il gatto di Schrödinger Voglio prendere La mia pistola Comunque È l'idea Che c'è una scatola Con dentro Un gatto Si fa Si fa passare Un fotone Attraverso un'apertura Nella scatola C'è un Un oggetto Che prepara Questo fotone Nello stato zero Nello stato uno Se è nello stato zero Il fotone Romperà Un'ampolla Di veleno Che Si diffonderà Nell'aria E ucciderà il gatto Se è nello stato zero Invece Il gatto Sopravviverà Ecco Se però Questo processo Crea una Soprapposizione Tra zero e uno All'interno di questa scatola Il gatto sarà vivo O sarà morto E questo è un paradosso No? E dici Ok apro la scatola E lo trovo O vivo O morto Però se non apro la scatola È vivo È morto Allo stesso tempo Ora Non so se Questo è un Si chiama Gedanken experiment Un esperimento D'immaginazione No? Ma perché scusai Da fastidio Anche a te non piace? Perché Non lo so Per il povero gatto Dici O perché è stato c'è Perché è la classica cosa Che nel vostro settore Avete sentito Citata talmente Tante volte Magari anche sbagliata Che è cominciato Sì Molto probabilmente Perché Mi senti parlare molto spesso Alla fine L'idea di questa Soprapposizione È proprio parlare di Non è uno zero È proprio parlare di Uno stato ontologico Diverso E poi ovviamente E poi ovviamente È un oggetto macroscopico Che contiene un sacco Di atomi Insomma C'è un sacco di Kavet Quando si parla Di un Gedanken È un esperimento Pensato come questo Però L'idea è che È l'osservatore stesso In un certo senso Che crea la realtà Fisica classica In questo senso Ma guarda L'osservatore Ti faccio Un esempio Del mio mondo invece Ad esempio Io ho fatto Soprattutto in passato Quando si poteva Per molti motivi Molti reportage No? E lì c'è Una cosa simile Anche se appunto È un po' come la questione Del gatto Perché non è simile Fino a un certo punto Il problema dell'osservatore Cioè tu quando vai Anche a parlare Con delle persone Osservare delle cose Ovviamente non si comportano mai Come si comporterebbero In assenza Dell'osservatore umano Diciamo Sono altri esseri umani Ovviamente no? Però tu di solito Devi parlare con delle persone Per mettere assieme una storia Però hai sempre Anche se diciamo Fai quello che in sociologia Credo si chiami L'osservatore Partecipante O cose del genere Cioè comunque Non sei neutro Impatti in quello che osservi No? Ed è una cosa A livello macro Mi rendo conto Che appunto Come il gatto Che quindi C'entra fino a un certo punto Però Per alcuni aspetti Assomiglia credono Cioè la sola presenza D'osservatore Cambia la storia Nel mio caso Magari lì ha a che fare Con un po' Forse un po' Di semantica Dell'osservazione Di semantica Dell'informazione Magari Qual è Qual è l'informazione Che la persona Con cui sta parlando Già ha E nel momento In cui viene fatta Una domanda La risposta La risposta Dipenderà anche Dall'informazione Che già c'è Non soltanto La domanda Per quanto riguarda La fisica quantistica E il mondo classico Va detto che È stato discusso In maniera Estremamente estensiva Quest'idea Che alla fine È l'osservazione Che crea il mondo Cioè questa idea Di Wheeler Archibald Wheeler Che diceva La nostra interazione Con il mondo È attraverso domande Che noi facciamo Al mondo E sono queste domande Che creano La realtà fisica In un certo senso E questo È un po' A che fare Con l'idea Di questa Meccanica quantistica Dove tu Come osservatore Osservi Il sistema fisico Il sistema fisico Quasi paradossalmente Acquista Un E qui ci riconnettiamo A quello che dicevi te Quando parli Con i tuoi intervistati Acquista un certo tipo Di proprietà Sulla base Che c'è L'osservatore Sulla base Che l'osservatore Sta facendo Una domanda Specifica Però ovviamente Qui si parla Sì poi sono tante variabili Non è solo No certo Nel mio caso Non è solo la domanda Ci sono tantissimi variabili Gli interessi Che possono avere Intervistati I rapporti Fra intervistati Però tutto il trigger Diciamo così È sempre L'osservatore Colui che Che fa la domanda Ma in filosofia Questo è il problema Del numero Cantiano Cioè l'idea Che ci siano Delle cose esterne All'esperienza Ma che ci sono Inaccessibili In un certo senso È un argomento Un argomento sicuramente Interessante Dal mio lato La risposta A tua domanda Come facciamo A leggere Il risultato Di una computazione Comunitistica Osserviamo L'oggetto fisico Alla fine Della computazione Quindi in un certo senso Quello che fai È una fotografia Però no Cioè se passi il termine Cioè prendi Sì sì Perfetto Sì Interagisco Con il computer E il computer Mi darà Mi darà una risposta Ok E ad esempio Leggevo Nella tua bozza Che una Delle possibili Applicazioni Potrebbe essere Anche nel campo Della fotosintesi Mi sembrava Particolarmente Interessante Proprio per il problema Appunto Che abbiamo Col carbonio Qua c'è stato Già Franco Pacchioni Che è uno scienziato Che ha scritto Di questo tema Recentemente È stato qua Il podcast E niente Come funzionerebbe Diciamo ovviamente Sempre dal punto di vista teorico Perché le due cose Potrebbero Allora Mi cancello Devi chiedere Una spugnetta a Bezos Mi preparo La mia lavagna Ok Allora Per questo argomento In maniera specifica Mi piacerebbe Parlare Di questa idea Di cammino casuale Ok Prima parliamo Di cammino casuale Nel mondo classico Prendi per esempio Tu abiti a Roma La metropolitana di Roma Esiste o non esiste? È una domanda aperta A molte Possibili risposte Supponiamo che esista In maniera del tutto Speculativa Diciamo No Supponiamo che esista Prendi una stazione Vai in una stazione E Hai Hai due possibilità Andare A sinistra O a destra Scegli una di queste Due possibilità Tirando Una moneta 50% E 50% Andrai alla prossima stazione In quel caso Avrai probabilmente Un incrocio Quindi avrai Linea A Linea B Che faccio? Vado sinistra A destra Linea A Oppure sinistra A destra Linea B Quattro possibilità 25% Di probabilità Ognuna di queste Quattro Ok Se continui Questo processo Continui a esplorare La metropolitana In questo modo E lo fai per un tempo Lungo Costruisci Quello che siamo Una distribuzione Di probabilità Sulle stazioni Della metropolitana E Risulterà Che Dove ti troverai Con maggiore probabilità Ti troverai Con maggiore probabilità Nelle stazioni Che hanno più Più possibilità Questa è una rete Un grafo Come si dice In termini matematici Le cui stazioni Sono di nodi Vertici E Le linee Che connettono Le stazioni Sono archi Nel grafo Nel network E Come si dice Asintoticamente Ovvero aspettando Un tempo Sufficemente lungo Infatti Lunghissimo La probabilità Che hai Di essere Una certa Stazione Sarà proporzionale Al numero Di Scelte Che hai In quella stazione Ok Ora Si può Costruire Un processo Simile A meccanica quantistica Però che si chiamerà Cammino Quantistico Piuttosto che Cammino casuale Una Cosa abbastanza Simile Avrai Una configurazione Di Di stazioni Di nodi Connessi tra loro In qualche modo E Però Il camminatore In questo caso Quando prenderà Quando farà una scelta La farà Attraverso una sovrapposizione Sovrapposizione Significa E di nuovo Userò il termine Magari in maniera Non troppo precisa Sceglierà di andare A destra E a sinistra Allo stesso tempo Ora Questo che cosa Significa E l'idea è che Vedi Se si rappresenta Questo processo Di maniera Matematica Dal punto di vista Classico Questo si chiama Un processo Stocastico Un processo Probabilistico E c'è Della probabilità C'è un po' Di teoria Della probabilità Base E questo riporta Un po' L'idea che La meccanica quantistica È un po' Simile Alla teoria Della probabilità Ma dove le probabilità Possano avere Dei segni Meno Ovvero Le probabilità Che poi si chiama Ampiezze Possono avere Dei segni Meno In probabilità Tutti i segni Sono più Hai o probabilità Zero Qualcosa maggiore Di zero Ecco In meccanica quantistica Ci sono questi Ampiezze Ora poi Se prendi Il quadrato Di x Più il quadrato Di meno x Devi avere Uno Numero uno Che è Ovviamente Come in probabilità Probabilità Della sinistra X Probabilità Della destra E x In questo caso X quadro E x quadro Insieme Deve dare uno Perché ovviamente Due eventi possibili La probabilità Deve essere uno Se li sono Però Nella meccanica quantistica Puoi avere questa Infatti Per dirla tutta Puoi avere I numeri complessi Puoi avere delle Probabilità complesse Che si chiamano Ampiezze Per semplificare Puoi semplicemente Dire che puoi avere Dei numeri Dei numeri reali Negativi Tra 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 Meno uno E zero Ecco Questo è ampiamente Al di là Delle mie capacità Nella mia mente Ora è rimasto Fermo Fermo All'incrocio È rimasto Fermo all'incrocio Sinistra Se hai questa Sessuale Sessuale Perché io Parlo in maniera Poco precisa E metto tutte le cose Insieme Perché Altrimenti È semplice Però la cosa Mi sembra abbastanza Controintuitivo Comunque Semplice Non lo so Sì È contruintivo No 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 Questo è senso Dubbio La cosa Da considerare È che Se uno dice Ah che cos'è La micromettistica Ah un po' Una specie Di teoria Della probabilità Ma con dei segni Meno No Questa è una via Una via di fuga Abbastanza Ecco Se tu sei lì Come camminatore Nella stazione Metropolitana E puoi scegliere Sinistra e destra Però c'è Questi segni Meno Se continui Ad andare Un po' Di questi segni Meno e più Si cancellano E ci saranno Un po' Delle configurazioni Di interferenza Come delle onde No Hai visto Le onde interagiscono Tra loro C'è interferenza Costruttiva No Due onde Che interagiscono E creano Un'onda Molto più alta O interferenza Distruttiva Quindi due onde Che interagiscono E si schiacciano Tra loro No E' come Come se Alla fine Non ci sia nessuna onda Anche ci sono due onde Effettivamente Ecco Questo succede A questo camminatore Che si sposta All'interno Di questa metropolitana Quantistica E si può Organizzare La configurazione In modo tale Che il camminatore Per esempio Tornerà Nel punto iniziale Con Con certezza Prima Tu ti perdevi Nella metropolitana Perché se vai a caso Ti troverai Dopo un tempo Sufficientemente lungo In una stazione Con maggiore probabilità Che dipende Dal numero Di linee Che arrivano A quella stazione Nel caso quantistico Può Può Essere anche Diverso E possiamo Organizzare Questa Questa dinamica In modo tale Che tu puoi tornare Esattamente Nel punto Da cui sei partito E questo è molto Controintuitivo Effettivamente Un po' Un po' Come questa idea Dove sia E infatti ogni scelta Che ha fatto È una scelta Puramente casuale Ecco Questo È un'idea Che si riconnetta A quello che dicevi prima Mi hai parlato Di fotosintesi Ci sono degli oggetti Fuori Il cui comportamento È governato Della meccanica quantistica Che si chiamano Complessi fotosintetici Questi complessi fotosintetici Prendono La luce La trasformano In 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 Etoricità E trasportano Questa Questa Chiamiamola Energia Ok Trasportano l'energia In maniera Molto efficiente In maniera Controintuitiva Perché alla fine Questi sono oggetti Che dal punto di vista fisico Sono anche abbastanza rumorosi Sono un po' Delle molecole Che Che Il cui comportamento fisico È un po' Simile a una Zuppa Non è una rete Fatta Ingegneristicamente Precisa Con delle Connessioni precise No Non è esattamente così Però Per qualche Ragione Che ha a che fare Con questo discorso Dell'interferenza E Il rapporto Tra fisicovantistica E fisicoclassia Quindi il contatto Tra l'ambiente esterno E questo oggetto L'energia Può essere trasportata In maniera Estremamente efficiente Quasi in maniera Miracolosa E Se Avessimo Un computer quantistico Sufficientemente grande Potessimo Caratterizzare Potessimo simulare Questo tipo di processo Magari potremmo anche Ricostruirlo in laboratorio Potremmo Costruire Delle macchine Che trasportano Tecnologia All'università di Pisa E Vittorio Giovannetti Alla scuola normale superiore Lavorano proprio Su questo campo Sono Sono esperti mondiali In questo campo Questi sono Dei sistemi Quantistici Che hanno Che hanno Come componenti Qubit Che possono essere Settati in un certo Stato per Immagazzinare Energia In maniera Molto Molto veloce Quindi ci sta Che Esplorando Quest'interfaccia Un po' Tra termodinamica E computazione Quantistica E fisica quantistica Saremo in grado Anche di costruire Magari delle batterie Che si caricano In tempo Molto molto veloce Cosa che Sicuramente Può avere un impatto Un impatto Societario interessante Senti Ti faccio Una domanda Più generale Generica Che magari Esula un po' Non credo Perché sicuramente È una cosa Su cui hai riflettuto Però diciamo Dalle Dalle tue Competenze Diciamo Più Professionali No però Quindi te lo chiedo Anche come Persona E come sicuro Pensatore Anche al di fuori Del tuo In carico Lavorativo Secondo te Può essere Che il motivo Per cui tutto questo Ci risulta Spesso controintuitivo È perché noi Ci siamo Tutto sommato Evoluti In un mondo macro Cioè nel senso Per sopravvivere Ah ok Cioè quindi In sostanza A noi Tutto questo Risulta difficile Da comprendere Perché abbiamo Dei cervelli Che si sono Evoluti Hanno seguito Dei meccanismi Evolutivi Dove tutto questo Non entrava Direttamente Nella competizione Per la sopravvivenza E quindi Però al tempo stesso Con enorme sforzo Alcuni Esemplari della specie Mi sembra di capire Sono in grado Di capirlo È interessante Anche questo In un certo senso Ma a capirlo Sai Alla fine Che significa Capire una cosa Siamo in grado Di sicuramente Aver costruire Una storia fisica Che sembra Descrivere La realtà In maniera Abbastanza Soddisfacente Però come vedi C'è un'interpretazione Complessa Infatti un'interpretazione Che forse non è soddisfacente Perché ancora Non sappiamo che cosa succede All'interfaccia Tra un mondo fisico E un mondo classico Però In relazione a quello Che dicevi Sicuramente È un Un discorso profondo E interessante Del quale io Non so assolutamente Nulla Sicuramente Ma neanch'io Ma è proprio Adesso possiamo anche Discuterne così A livello di intuizioni personali Una volta è carificato Che non è quello Di cui mi occupo Né io né te Però diciamo Possiamo parlarne così Perché è comunque Un tema molto interessante Secondo me Argomento Esquisitamente Di filosofia Della scienza E Che non so bene Come Come approcciare Va detto Che sì L'interfaccia Tra un mondo fisico Classico E quantistico È stata studiata In tanti modi diversi C'erano tanti Approcci diversi Per cercare di capire Quello che succede L'interazione Tra questi due mondi C'è anche Queste idee Queste interpretazioni L'interpretazione Per esempio Del Il multiverso Ovvero che Ogni volta che Che tu sei in questa Metropolitana quantistica E fai una scelta Questa idea 85 Se non sbaglio E successivamente Ha lavorato In quello che è Il primo algoritmo Quantistico Quindi la prima Procedura Formale Per processare Informazione Quantistica Per ragioni Computazionali È anche È anche il primo Algoritmo quantistico Che risolve Un problema Che Ha un senso Che fu fatto Insieme al mio Supervisore Dottorato Mi sembra Nel 1992 Insomma David Deutsch Spinge Quest'idea Del Multiverso Ma ce ne sono Tante altre Tante altre Interpretazioni Da meccanica quantistica Tra queste Anche Una Che si chiama Ghirardi Rimini Weber Giancarlo Ghirardi Rimini Eminenti Fisici italiani Che Che io Purtroppo Adesso Non mi ricordo Più Ma mi ricordo Che al tempo Avevo studiato In Italia Sono Esperti In questa Materia Che sanno Molto Molto Più di Me Ok Senti E invece Tu hai Sia la formazione Umanistica Che poi Dopo Successivamente Scientifica E come Come rapporti Le due cose Che vantaggi Credi Che ti abbia Dato se ti hai dato Qualche vantaggio Domanda interessante Guarda Non lo so Non lo so Io Nella mia esperienza Personale Avevo avuto Un po' Un cammino Pseudo Casuale Tra Tra scienza E Quella che è La cultura Umanistica Io ho Fatto il liceo Classico Quando ho fatto Il liceo Classico Non avevo La più palida Idea di cosa Fare Dopo Sono una persona Privilegiatissima Perché avrei Potuto scegliere Di studiare Insomma Quello che volevo E Ero spinto Un po' All'idea Che Che la razionalità È un qualcosa Di sicuro Che ti fa sentire Ti fa sentire Protetto E Come adolescente E Sono stato Sempre un po' Affascinato Dall'idea Che La matematica È un ambiente Che puoi tenere Un po' Sotto controllo Dove Alla fine Il mondo reale In un certo senso Non ti tocca No Però Non sono mai stato Bravo in matematica Quindi È ironico Che tu sia finito Però con la Con la quantistica Che è Diciamo La parte Dove Dove la probabilità Torna fuori Di nuovo Infatti Sono un impostore Dico Ma No Senti Ho finito la scuola superiore E ora Non so se Quest'argomento È interessante Perché È molto interessante Però Ho finito la scuola superiore E Era un'estate E i miei amici Andavano a studiare a Siena Io sono cresciuto In un paese Che si chiama Sarteano In provincia di Siena 4.000 anime Qualcosa Molto bene E Lo sai Conosco Conosco Non sapevo bene Cosa fare Questo mio amico Che aveva studiato Insomma Avevamo nella stessa classe Al liceo Mi disse Ah Tu devi studiare chimica Chimica Ma perché chimica Perché chimica è interessante Non avevo ben chiaro Perché chimica fosse interessante Ma tutti i miei amici Andavano a studiare a Siena Allora Per non rimanere Per non rimanere fuori Dal gruppo degli amici Andavano a studiare a Siena E Fallivo gli esami Bocciavo gli esami Uno dopo l'altro La chimica Infatti ho smesso Perché non andavo avanti E E Era un'estate Parlando con un altro amico Eravamo Eravamo In macchina Nel Mugello E lui studiava filosofia E guidava Questarri con 4 Per le strade del Mugello Cercavamo di capire un po' Che fare in quel periodo Eravamo depressi Non mi ricordo perché Perché ci avevano avuto Le nostre fidanzate Che ci avevano lasciato Insomma E Mi disse Sai che Simone Tu non puoi studiare chimica Studia di filosofia come me Dico Filosofia Vorrei fare qualcosa di scientifico Forse Forse continuo chimica Anche se Non sto andando bene Perché altrimenti Qui parto militare Perché al tempo Tra l'altro c'era Il servizio militare E Mi portò Grande Grande incentivo Allo studio Mi portò All'università Firenze Al dipartimento di filosofia In via Via Bolognese E parlai con Con la professoressa Maria Luisa Dalla Chiara Logica E filosofa Italiana Che fu Fu illuminante Perché mi disse Mi 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 fece capire Che Studiando filosofia Puoi anche studiare cose Che hanno a che fare Con la scienza Perché c'è filosofia Della scienza C'è C'è logica C'è Alla fine L'interfaccia Tra fisica e filosofia È gigantesca È interessantissima E Mi fece innamorare Un po' di questa interfaccia E Ti dirò di più Io ho cominciato A mettere un po' le mani A studiare un po' Quello che è la composizione quantistica Dall'inizio del 97 Quando studiai Proprio Mentre ero a filosofia Il libro Di Giancarlo Ghirardi Di cui adesso purtroppo Non mi ricordo il titolo Un'occhiata alle carte di Dio Un libro divulgativo E mi fece appassionare All'idea di Di fisica E E filosofia Se c'è lo metto sotto C'è un link Poi nella descrizione Dove ci sono tutti I libri degli ospiti Oppure consigliati agli ospiti Quindi Poi lo Se lo trovo Lo metto Insomma lo dico Sì e non avendo Una preparazione tecnica Sufficiente Questo fu un libro Che a parte Potevi leggere Non devi studiare Non c'è un contenuto matematico Insomma un libro Che puoi Un libro di Puoi leggere Tranquillamente Senza dover prendere Appunti Senza andare avanti Indietro Che è un modo diverso Leggere Un libro divulgativo E studiare Un libro di matematica Però mi fece appassionare Su questo campo E mi piace tantissimo Quest'idea Appresa poi Da un libro di Roger Penrose Di cui adesso purtroppo Non mi ricordo Sono due Forse uno in inglese Era Shadows of the Mind Ombre della Mente Un altro Il cervello quantistico Sì che parla proprio Di questo discorso Il cervello quantistico Mi sa che in italiano Si chiama proprio così Adesso non vorrei dire Controllo Ah ok Ok E l'allessi di questo libro E l'idea Di questo Dell'interazione Tra fisica E computazione Fu estremamente affascinante Insomma in un modo Nell'altro Finì per laurearmi E fui estremamente Fortunato Perché facendo domande Di dottorato Un po' a casaccio Però questo era Quello che volevo fare E finì per fare Il dottorato Con Richard Giosa Che è una Delle persone Che Uno dei pionieri Del campo De la computazione quantistica E che Non so Non so per quale ragione Ho deciso Di prendermi A fare il dottorato Con lui Perché alla fine Conoscevo pochissima Matematica E fare un dottorato In 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 Fisica In un certo senso Con una laurea In filosofia Non è Non è banale Infatti Infatti Tutto oggi Se mi chiedi Conosci le equazioni Differenziali Sì e no Però Questo dove Questo scusami Dove Dove hai fatto il dottorato? A Bristol Nel Regno Unito A Bristol c'è una scuola Di 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 Fisica Specificatamente Di Meccanica Quantistica Importante Di Iraq Era di Bristol Yakir Harunov Uno dei padri Fisica quantistica Di oggi Era a Bristol C'era un gruppo Molto forte Al tempo Che cominciava Con Michael Berry A parte Ricerciosa Sandro Popescu A Linden E fisici sperimentali Scusa domanda forse stupida Ma secondo te Con una formazione Appunto Mancava dal punto di vista Matematico In Italia Ti avrebbero preso A fare una cosa Del genere Non ho idea Non ho idea Fu una cosa Molto informale Mandai Questo curriculum Un po' in giro Ebbe alcune offerte Avevo dei buoni voti Diciamo A filosofia Se avessi studiato fisica Probabilmente Non mi sarei mai laureato Perché come dicevo Dal punto di vista matematico Non sono mai stato Particolarmente forte Ovviamente Attraverso Insomma La carriera scientifica Che ho avuto Ho dovuto Per necessità E per passione Impararmi Gli strumenti Che servono Per poter sopravvivere Perché alla fine Anche quando cominciava A fare il dottorato Una volta Ti trovi davanti Magari I problemi Io mi ricordo Affrontavo Il primo problema L'ho affrontato Era un problema Di Quello che si chiama Teoria dei gruppi Computazionali Ovvero Hai un oggetto matematico Che si chiama gruppo Che è un insieme Con un'operazione Definita sopra E volevi Cercare di Risolvere Un problema specifico Collegato A questo Un problema Che ha a che fare Strettamente Con la computazione Quantistica E insomma Fu abbastanza Difficile A parte non l'ho mai risolto Questo problema Quindi dovete abbandonare Dovete prendere Un altro problema Piano piano Però Fu difficile Perché è come se ti trovi Non lo so Io ho questa Non so se si chiama Analogia e metafora Confondo sempre due cose Quest'idea che sei nel bagno Che sei nel bagno e ti si rompe Non lo so Il flessibile Del bidet Ti salga il bagno Dio che faccio Dio che faccio O chiami l'idraulico E te lo risolve lui Oppure impari A cambiare il flessibile Allora che ti serve Ti serve Una tenaglia Ti serve Il cacciavite Ti serve La guarnizione Ti serve E' un po' Quando ti trovi In una situazione del genere O impari a notare O affoghi Nel senso che Vedi Ok questo è il problema matematico Che devo fare Ritorno indietro Ci sarà tutta una Tutta una Una lista di cose Che devi fare Soltanto per capire L'enunciato La definizione Ah infatti Del problema stesso E No immagino Io guarda Posso solo avere Una vaga idea Dell'ordine di grandezza Del problema Perché appunto Ogni tanto leggo Delle cose divulgative Appunto Che però Mancano sempre Dove vengono date Tutta una serie di cose Per assodate Non è che vengono dimostrate Ma perché io non sai Minimamente in grado di capire Poi queste dimostrazioni Quindi Penso sempre Che bello che sarebbe Poi sapere queste cose Anche in maniera Meno apodittica Diciamo sapere Cosa c'è dietro Però immagino Che sia un lavoro Gigantesco Ma La cosa interessante Secondo me È che quando Si fa matematica A scuola Si impara Matematica E si Dico matematica O fisico O quello che sia Si impara E non E non si prova A risolvere i problemi Effettivamente E Si Si lavora In un ambiente Abbastanza artificiale Invece quando Sei nel mondo reale Innanzitutto c'è la collaborazione E E questa è una cosa bellissima De lavorare nella scienza Si parla con gli altri E' come una squadra di calcio C'è il portiere C'è l'attaccante C'è il centrocampista E ognuno ha delle qualità diverse Ognuno ha delle capacità diverse C'è la persona che è fantastica Nel Nel Che rimarranno Irrisolvibili Perché sono anche difficili Da 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 enunciare Da caratterizzare Mentre dei problemi Magari Hanno un senso Il discorso Quando si parla di bellezza In matematica No E questa è una cosa E questa è una cosa formidabile Che il libro della natura È scritto nel linguaggio Della matematica Se non sbaglio Galileo Galilei Diceva questa cosa L'energia che ti dà L'idea di lavorare Con un gruppo di persone Per fare qualcosa Che Davvero dal punto di vista estetico E' bello E' bello l'idea di Prendere un problema Da questo universo Platonico Che è lì E tirarlo giù E Facità diverse E questo è un processo Che è molto diverso Da come si fa A matematica a scuola Sì è quasi prometeico Cioè la sfida dell'uomo La sfida nel senso Amichevole Però diciamo Cercare di capirla Comunque Significa anche un po' Possederla La natura E lavorare insieme Lavorare insieme Con capacità diverse Per esempio Mi piace questa Questa Descrizione di Freeman Dyson Che diceva che In matematica ci sono Se non sbaglio Le rane E gli uccelli Gli uccelli sono quelli Che volano Che vedono un po' Il panorama generale Le rane Invece sono quelli Che vedono Soltanto intorno a loro E risolvono il problema In maniera Meticolosissima E poi fanno un salto E risolvono Quello che c'è intorno a loro Di nuovo E ci vogliono Rane E uccelli Insieme Perciò magari Dici ok Preparazione Tecnica Certo Ci vuole Una persona Che sia Capace Dal punto di vista Analitico Ma poi ci vuole anche Una persona Che magari ha un'intuzione Sui problemi E poi Non ti voglio Menzionare minimamente La diversità Che c'è tra lavorare Nell'università E lavorare Nell'industria Dove Invece era una Delle mie prossime domande No Dimmi Dimmi Io sono passato Insomma Lavorato In L'università Per 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 tutta la mia Per gran parte La mia carriera Poi ho avuto modo Di interagire Con un po' di Start up Di organizzioni Che sono al di fuori Dall'università E ho visto Un mondo Che è molto diverso Che ha spesso A che fare Con l'esecuzione Infatti L'esecuzione È fondamentale Per andare Da A A B Ci vuole Magari L'1% Di Non mi ricordo Se c'è questa frase L'1% Di intuizione E il 99% Di sudore Una cosa del genere E questo ovviamente C'è anche nella scienza C'è nel lavoro Che si fa Nell'università Ma nel momento In cui Si lavora Come parte Di un gruppo Industriale Che cerca di risolvere Un problema specifico Con 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 Molte persone Che lavorano insieme Con competenze diverse E quello che sia Il livello di complessità Diventa In maniera abbastanza veloce E difficile da gestire Questo succede anche All'università Perché ci sono Dei progetti Molto grandi In fisica sperimentale Per esempio Che richiedono Tante tante persone diverse Vedi Vedi Esperimenti enormi Come LHC Al Cerno Anche cose Un po' più piccole Ma comunque Con scale Che hanno a che fare Con decine o centinaia di persone Però Differenza Che io ho visto Almeno nella mia esperienza Personale Io lavoravo in università Come teorico Alla fine Ovvero Carta penna 3-4 persone Nella stanza Pochissimo Coautori C'era molto meno pressione Dal punto di vista Dell'esecuzione Invece lavorare In un progetto industriale Con un goal Ben stabilito Che vuole avere Un impatto Ci sono molte più variabili Da tenere in considerazione Però forse Può essere Che poi c'hai anche Un po' più di soddisfazione Nel senso Che poi vedi qualcosa Di concreto Alla fine Magari non so se puoi toccarlo Nel tuo caso Però diciamo Penso che sia Senti Penso che sia Una soddisfazione Diversa Diversa Nel senso Che Come scienziato Quello che fai Alla fine È scrivere articoli Principalmente Condividi Anche Con altre persone L'importanza Dell'insegnamento Quindi Transmettere Ad altri Cose Che Che a te piacciono Con la speranza Che Quest'altra persone Trovi Menù valore Di quello che trasmetti Quindi Insegnamento Però a scrivere articoli Lavoro Prettamente Intellettuale Qua sì Effettivamente Questo fatto Del costruire Alla fine Sai Quando Quando ha scritto Un articolo Il momento di liberazione È quando metti Quest'articolo Su internet C'è questo Archivio Di articoli scientifici Che si chiama Archive Dove fisici Matematici Così via Mettono articoli Una volta fatti Ah L'hai messo L'articolo Sull'archivio Sia meno male Finalmente Adesso Lavorando Nell'industria Diciamo Che Questo Questo momento Di pace C'è di meno È più difficile Determinare Abbiamo fatto L'articolo Ok Finalmente Ovviamente C'è tutto il discorso Del referaggio Dell'articolo Trovandone indietro Il referì Non è contento Magari è rigettato Cambiamo rivista Però è tutto Un macchinario Abbastanza Abbastanza Chiaro Qui ci sono Molte Molte più variabili Abbiamo lanciato Il nostro servizio Come dicevo prima Questo Amazon Bracket Prima In preview Dicembre Del 2019 In disponibilità generale In agosto Del 2020 E Due minuti Dopo che l'abbiamo lanciato Ero già lì Su un'altra cosa Infatti Una persona Lavora con me Ha detto Simone Assapora Questo momento Che abbiamo Finalmente Messo lì fuori Qualcosa di concreto Di toccabile Con mano E Insomma Mi ricordo Quel pomeriggio Perché Ho Riflettuto Ho riflettuto Molto Su questa Su questa cosa Assapora Questo momento Infatti è vero Si avrei dovuto Forza assaporarlo Un po' Perché effettivamente C'è l'aspetto Diciamo Contemplativo Meditativo Di pensiero Che è sempre Diciamo Può dare Grandi soddisfazioni Però poi c'è sempre Anche il discorso Del rapporto Col mondo E ad esempio Nel mio mondo Quello del raccontare Il mondo È facilissimo Poi perdersi Invece Nel racconto Fino a se stesso Nella Anche un po' Nell'ombericalità Nel narcisismo Eccetera Da questo punto di vista Per me Invece c'è Il discorso Del reportage Perché quello Oggi sono sempre più difficili Da fare Con la crisi del giornalismo Non ci sono mezzi Però qualcosa Ancora io Sono riuscito a fare E quello è interessante Perché ti costringe A confortarti col mondo E meglio ancora Sarebbe un'esperienza personale Cioè di fare cose Concretamente nel mondo E anche Cioè quello ti permette Tanti grandi scrittori Hanno fatto Un sacco di cose Assurde Una loro vita O comunque strane Quindi c'è sempre Questa tensione Fra le due cose Nel tuo Nel vostro caso Sia sul lato Imprenditoriale Industriale Sia sul lato Invece accademico C'è comunque forse Un confronto un po' più Rigido poi Con quelle che sono Le leggi della realtà No? Mentre invece Nella letteratura È più facile Finire Nell'unanismo Perché se si ha Il consenso sociale Diciamo Del proprio circolo Letterario E quello è sufficiente Mentre invece Tu metti poi Pubblichi una cosa Su un sito Dove tutti i ricercatori Del mondo Di quell'argomento Possono leggerlo Se è sbagliato Sbagliato Cioè nel senso Se non torna Non torna Quindi forse avete Sempre un meccanismo Di controllo In entrambi i casi Un po' più rigido E questo Probabilmente è positivo Però in realtà Sì Condivido questa cosa Con te Un punto Che Che ho imparato Lavorando Lavorando Nell'azienda Dove lavoro È che Che qui Tutto quello Che viene fatto Viene Viene guidato Dall'idea Di avere un impatto Per quello che è Il cliente Per quello che è L'utente Ogni problema Che è risolto E questo è Non so se si può dire Liberatorio In un certo senso Però vedi Quando Quando fai Lavoro intellettuale Hai Un vantaggio enorme In un certo senso Che è la libertà Di poter approcciare Di approcciare cose diverse Si può fare anche però Il lavoro intellettuale Quello che sia In un ambiente Come quello In cui lavoro Però con Un obiettivo Più specifico Che è più esterno A te Ovvero Risolvere un problema Per gli altri Piuttosto che Una scommessa Te contro l'universo O te il tuo gruppo Di coautori Contro l'universo Nel risolvere il tuo problema Dove Chi è il cliente Forse Chi è il cliente Della scienza Immagina sia La società stessa In un certo senso Si vuole essere Onesto Però quasi come Sottoprodotto Però Cioè nel senso Magari Dopo un certo Punto Della propria carriera Magari Magari Non tutti Ma molti Puntano È Il riconoscimento Personale Del proprio gruppo Eccetera E questo poi Comporta anche Dei vantaggi Per la collettività Però forse Per alcuni È la cosa Che viene prima Un po' Un gioco Tra le due cose Alla fine Un po' Un compromesso Tra le due cose In un ambiente Come questo Alla fine Conta Identificare Un problema Associato A un certo Tipo di cliente Infatti La prima domanda Che uno si fa Nel Definire Un nuovo progetto Qua è Ok Chi è il cliente Si identifica Un tipo di cliente E si fa questo lavoro Che si chiama Camminare all'indietro O lavorare all'indietro Ovvero Si parte proprio da Ok abbiamo identificato Il tipo di cliente Abbiamo identificato Il tipo di problema Che è un Che è doloroso Per il cliente Che va risolto E che cosa bisogna fare Per risolverlo Qual è la strada Che ci porta a risolverlo E questo Determina Non voglio dire Automaticamente Ma aiuta A identificare Dove si vuole andare Lo mette In una In una Cornice Molto Molto Precisa E limita Ovviamente Le tue scelte In un certo senso E ti dà Un obiettivo Che vuoi raggiungere Questo è quello Che abbiamo Anche Anche con il progetto Che abbiamo Con i progetti Che abbiamo In tecnologie quantistiche Quando io Ho cominciato a lavorare Amazon Web Services La prima cosa Che ho dovuto fare È proprio Lavorare Per svariati mesi Parlando con Università Startup Grandi aziende Agenzie governative Per cercare di capire Per cercare di capire Quello che sarebbe stato Di più valore Per questi tipi diversi Di clienti Per avere un certo Per avere un impatto Un impatto futuro Poi da quello Piano piano cristallizzare E la strategia Per arrivare A questi impatti E questa è una cosa Molto standard Ad Amazon È uno dei principi Fondamentali Per come funzionano I progetti Eh ma si intuisce Anche diciamo A livello Poi di consumatore Semplice Anche le interfacce Sono sempre molto Insomma Si capisce Che c'è dietro Questo pensiero Questa progettazione Ma l'altro aspetto Forse Che rientra Anche in questo mondo Oggi Soprattutto È la questione dei dati Cioè proprio Da un punto di vista Non so nel tuo settore Specifico Della computazione quantistica Ma credo che In generale Una delle direzioni Che sta prendendo l'industria A parte la centralità Del consumatore Sia anche La L'analisi Attraverso i dati Eh Io ad esempio Questa cosa Sul mio lato Dal punto di vista Creativo C'è tra delle storie Spaventa anche un po' Perché dici Ma forse Si poi si perde Quella che è la capacità Di immaginazione Di innovazione In senso stretto Perché si fa esattamente Quello che la gente Già vuole Capito Qui guardare Troppo E uno si limita Sì o comunque Elimini quella componente Di innovazione Imprevedibile No Probabilmente Il prodotto medio Migliora tantissimo Però poi si standardizza Nel tempo Non so Mi chiedo se nella scienza Ci sia un analogo Su questo In essenza In essenza Ci sono I I Delle direttrici Delle Delle correnti Che Anche in essenza C'è la moda No Per esempio C'è Un campo Un sottosettore Che tutto un tratto Diventa Diventa molto popolare E allora Allora magari Tu come studente Dottorato Dici ok Su cosa voglio lavorare Meglio che lavoro Su questo argomento Perché c'è un sacco di gente Che pubblica su quell'argomento E C'è questo discorso Delle citazioni Per esempio No Che Che nella scienza Da un lato interessante All'altro lato Un po' terrificante Che A volte I ricercatori Vengono Valutati In base A qual è Il loro impatto Come è giusto In un certo senso Ma come definisci L'impatto scientifico No Non è semplice Allora c'è questa bibliometria Guardare quante citazioni Una persona ha avuto E Magari uno Tenda a lavorare di più In un campo dove È più semplice A avere citazioni Piuttosto che In un campo dove Dove è più di nicchia Che però potrebbe avere Un impatto maggiore Attraverso altri criteri E Ora Sto cercando di Di Componente sociale Di Degarmi un po' A questo che dicevi tu Ok Ci sono tanti dati Lì fuori Uno Fa 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 delle scelte In base a quello che Forse è La corrente generale Che viene fuori dai dati Forse è questo che vuoi dire Che magari Magari guardare al mondo Ti forza Sì adesso Non so Diciamo Nel campo tuo Specifico Ripeto Però in generale Avere tutti questi dati Così dettagliati E sempre ce ne saranno Di più Eccetera Da un lato È diciamo A due valenze Da un lato Per certi aspetti È democratico Perché puoi fornire Per persone Qualcosa di più simile A quello che loro desiderano Dall'altra Li incateni Però in un certo senso Ai loro desideri Presenti Quasi per sempre Cioè Non so se Mi sono spiegato Nel senso Elimini Quella componente Di imprevisto Che però potrebbe Anche per certi aspetti Talvolta Di difficoltà Poi da superare Che però potrebbe Arricchire anche La loro esistenza Anche in prospettiva Cioè Rischi di arrivare In un mondo Tipo quello Ti ricordi quel film Con il robottino Della Disney Cos'era Wall-E Dove c'è tutto Questi che vivono Sull'astronave Tutti grassi Che si muovono Con Cioè nel senso Adesso quella era Appunto una metafora Una regoria Però diciamo L'idea Che Una volta che hai Sistemato Tutte quelle che sono Le esigenze Anche attraverso Le norme La quantità Di dati che hai Cosa rimane Però poi L'essere umano In un certo senso L'essere umano È fatto anche Per Per compiere errori Per creare Un suo percorso Senti io Per come vedo Un po' La Qui probabilmente Non so se Questo si riconnetta A quello che stai dicendo Oppure sto Andando In un'altra direzione Se tu pensi Un po' Al Al cervello Come Un calcolatore Ok Prima di tutto Sembra abbastanza Chiaro Che la gran parte Dei processi Che questo calcolatore Implementa Noi non ne siamo Coscienti Succedono tante cose Nel nostro cervello Di cui non Abbiamo idea E che C'è anche la possibilità Che noi siamo degli automi Tutto sommato Che Dove Il nostro cervello È un monitor Sul corpo E noi abbiamo magari La sensazione Di prendere Decisioni Ma non prendiamo Nessun tipo Di decisione Siamo semplicemente Adesso sto Alzando questo braccio Ma non perché Ho deciso di farlo Ma perché magari C'è un processo Che come Come un automa Cellulare Si dipana In un modo tale Che a questo punto È necessario In una maniera Deterministica Esatto Se io guarda C'è un dialogo Nel mio ultimo romanzo Che ruota attorno Proprio a questo Oppure a una Una prospettiva invece Quantistica Della coscienza Per cui Introduci Una variabilità Non controllabile Diciamo Della coscienza Però sì Potrebbe essere Effettivamente Molto interessante Ma allora Che cos'è La L'immaginazione No Fantasia E magari Se Se si Pensa al cervello Come Come Computer Magari L'immaginazione È quello Che si può Chiamare Euristica Una specie Di scorciatoia Diciamo Scorciatoia Perché c'è Questo spazio Enorme Di oggetti Che puoi esplorare Per trovare Uno spazio Di soluzioni E magari Se applichi Un algoritmo Deterministico Dove Fai scelte Una dopo l'altra In sequenza In una sequenza Deterministica Magari arrivare A quella soluzione Lì Potrebbe Chiedere Un sacco Di tempo Mentre Con l'immaginazione Puoi trovare Quella scorciatoia Quindi Beh lì ci sono Anche proprio Delle euristiche Evolutive Nel senso Alle volte Abbiamo delle intuizioni Che si rivelano giuste Alle volte che sbagliate Ma diciamo Probabilmente La maggior parte La maggior parte La maggior parte Le volte giuste Perché sono Hanno avuto Appunto Una funzione Evolutiva E quindi Oppure anche Culturale C'era questo esempio In un libro Di Gladwell Su Quando c'era Avano trovato Questa Questa statua Che doveva essere Greca E poi la mostrano Cioè D'antica Grecia Poi non mi ricordo Di quale periodo Poi la mostrano Ad alcuni esperti Tra cui mi sembra Che Zeri E questo Vedi Dice Questa E però Non sa dire perché Però Non è originale C'è qualcosa Che non torna E in effetti Poi aveva ragione E Non mi ricordo Come lo dimostrarono Mi sembra Con degli esami Sulla materia Eccetera Che insomma La data Non corrispondeva Però Lui disse Io non so Non so dirti perché Ma non è E quindi Praticamente La sua euristica Di capitoli Non so A quel punto Aveva avuto 70 anni Di studi Di storia dell'arte Vi diceva Guarda Ma adesso Non so perché Però Non emergeva Diciamo Il processo Perché probabilmente Era tutto Un meccanismo inconscio Di tutta una Chissà come funzionava Il suo cervello Però Era talmente Introiettata Quel sapere Che gli dava L'intuizione Corretta Poi alla fine E questo Era un condizionamento Diciamo così Culturale E invece In molti In molti casi Ce l'abbiamo proprio Inconscio Nel senso A livello naturale No? Sandy C'è due cose Che mi vengono in mente Parlando di questo argomento Uno Il fatto che oggi Si parla spesso Spessissimo L'intelligenza artificiale E di reti neurali Non è chiaro Che cosa succede Quando Quando Si usano Le reti neurali No? E Ma Sembra che Ovviamente Devi avere un sacco Di dati No? Per fare questo Il Allenare Per allenare Le reti Poi Poi però Dal punto di vista Matematico No? Non c'è questa Una bella formula Che dice Ok Questo è quello Che succede No? E magari Ci sta che Immagino Questa è una Conversazione Che un sacco di gente Sta avendo In questo momento Ci sta che Sulla lunga distanza Probabilmente Anche la scienza Si La scienza Evolverà E forse Saremo soddisfatti Nell'avere qualcosa Che funziona Però senza sapere Effettivamente Come Perché funziona La scienza Finora Si è basata Su No? Avere La formula La legge Pensa alla fisica No? Abbiamo La legge di gravitazione Abbiamo Abbiamo No La bellezza Della formula Magari a un certo punto Avremo semplicemente Una macchina Che A cui viene dato In pasto Una grossa quantità Di dati E questa macchina Dice Guarda L'universo Comunque funziona In questo modo Mi chiedo Se stiamo andando In quella direzione Dall'altro lato Però La seconda cosa Che mi viene in mente È questo discorso Dell'incompletezza Della computazione No? Questi teoremi di Gödel Non so se Hai mai sentito parlare Di questo argomento E' un argomento profondissimo No? Il fatto che In un sistema formale C'è sempre Un enunciato Che non puoi Che non puoi Dimostrare Essere vero o falso No? E quindi la macchina Entra in un loop infinito Il computer E non permette Di risolvere Il problema Questa è una cosa Interessantissima Perché anche in fisica Ci sono dei problemi Nel nostro mondo fisico Ci sono dei problemi Che non siamo in grado Di risolvere Attraverso un computer Così che il computer Ci dica Alla fine della computazione Sì o no Per esempio Ora Dico una cosa tecnica In un secondo Quello che si chiama L'inglese Hamiltonian Gap Il Spazio Hamiltoniano Purtroppo Vabbè Gap si capisce Comunque Mi viene a mettere anche a me Diciamo La Distanza Vedere il livello Energetico più basso Di un certo tipo Di un certo tipo Di oggetto fisico E il secondo livello Energetico più basso Quantificare questo Ci sono dei casi In cui questo È dimostrabile Che non si può risolvere Se si dà in pasta A una macchina A questo problema La macchina Non è in grado Di risolverlo Non perché è troppo difficile Ma perché proprio Per questo discorso Dell'incompletezza La macchina Entrerà in un ciclo Infinito E non dirà mai Sì o no E questa è una cosa Interessantissima Che ha anche a che fare Con l'idea Che forse il cervello umano Forse Non è una macchina No In questa idea Che noi possiamo dimostrare Quei il teorema Però Tornando a quello Che dicevi prima Scienza Probabilmente la scienza Si sta evolvendo Ci baseremo molto Molto di più Sui dati E meno Su Su formule chiuse Però Con il caveat Che alla fine È anche un computer A dei limiti Che non hanno a che fare Con la complessità Ma con la computabilità Stessa Sì ma Mi sembra appunto Un discorso Con mille possibili Poi derivazioni E conseguenze Prime due Forse anche un po' banali Che mi vengono in mente Che da un lato Ammesso appunto Che noi abbiamo Se abbia una Una sovranità Su noi stessi Cosa che come diciamo Prima potrebbe anche Non essere Potrebbe essere anche Tutta una concatenazione Deterministica Questo Ammesso che sia così Sarebbe anche un po' Un cedere Una sovranità Diciamo Il fatto di accettare Delle sentenze Che non siamo in grado Di capire Dove esattamente Come arrivano E poi C'è anche il discorso Che nel momento in cui Crei questo Spazio di ignoranza Ti stai mettendo In un pericolo esistenziale Ma lo sai La cosa interessante Perché non sai Non sai questi Cosa Cioè Non sai la macchina Che sta veramente pensando E questo è molto Pericoloso Ora Su questo La cosa che mi viene in mente A me è che Non è soltanto ignoranza Come mancanza informazione Ma proprio Quando si parla di Incomputabilità È semplicemente Irrisolvibile No Perciò La nostra La nostra posizione Come osservatore Dell'universo Cambia Perché Sappiamo che In matematica Non possiamo Attraverso una macchina Risolvere ogni problema No Però Se questo succede Anche in fisica Significa Che dobbiamo Ricalibrare Rinormalizzare Un po' Qual è la nostra La nostra capacità Di comprendere La natura A livello fondamentale C'è Una probabilità Che la natura Alla fine Non sia Comprensibile A livello fondamentale Non c'è una teoria fisica Che può comprenderla Probabilmente O forse c'è Un'infinità Di teorie fisiche C'è quindi Diciamo Il sogno Di Dominarla Almeno nella misura Di comprenderla In ogni sua singola Manifestazione E funzionamento Potrebbe rivelarsi Ampiamente Diciamo Velleitario Chi lo sa E scusami E poi Diciamo Concludiamo Ma Il ruolo appunto Della probabilità Nella fisica quantistica Poi quindi anche Nella computazione Eccetera Ha cambiato Il tuo modo Di vedere il mondo Proprio anche Nei tuoi comportamenti Nel tuo Approcciarti alla realtà Nella tua vita Anche personale Allora Mi va queste domande Che sono Domande profonde Se vedo Quello che faccio io Durante la mia giornata Lavorativa Che è Cose molto Manageriali Dobbiamo fare quella telefonata Dobbiamo Dobbiamo Riempire quel modulo Se la Se Diciamo Se vedere Che 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 alla fine La natura In un certo senso Ha Questa A livello fondamentale C'è qualcosa di probabilistico Se ha un impatto Anche Magari Nel modo Che Che uno approccia La vita In base Avendo Vedendo Questo come esperienza Diciamo Quotidiana Sai Non lo so Onestamente Magari Questa è una di Magari Questa domanda Come risposta Ha proprio Ma Sappiamo pochissimo Di quello che succede All'interno La nostra mente Quindi Non sarei in grado Di Non sarei in grado Di determinarlo Non lo so No Sai Magari Alle volte Si pensa anche Per analogia Magari Anche Da punto di vista Narrativo In maniera semplice Nel senso Si prende in considerazione L'ipotesi Che Che le cose Potrebbero essere Meno lineari Di quelle che Intuitivamente Le pensiamo essere No E poi magari Però tu stai A un livello Di complessità Tale Poi invece Su quello Che è il calcolo Vero Che Questo Parallelo Non ti viene Nemmeno più Perché non è Narrativo Ma è proprio C'è una cosa In meccanica quantistica Che Che mi piace Che mi affascina Che mi affascina E che Che Mi dà da pensare Anche un po' Al di fuori In meccanica quantistica Anzi Che si chiama Contestualità La contestualità È una cosa Un po' Diversa Che cosa Significa Se Allora un contesto È Diciamo Un insieme Di Di domande Che possono Essere Fatte E E E non Diciamo Le risposte Non si Non si danno fastidio L'una con l'altra Cioè Domande Possono essere Fatte Insieme Senza Che Ci C'è un'interazione Tra le risposte Per esempio Questa lavagna Di colore È Bianco Questa lavagna È rossa Sì Io posso chiedere La domanda Questa lavagna È bianca Insieme a È questa lavagna Quadrata Oppure insieme a È questa penna Rossa E la risposta A È la lavagna Bianca Non cambia La lavagna È sempre bianca Non importa se la domanda Che io faccio È fatta insieme A un'altra domanda Sulla lavagna O una domanda Sulla penna E questa è una cosa Importante Importante Che vediamo nel mondo Intorno a noi No E questo si chiama Contestualità Ora In meccanica quantistica Non è così È diverso Perché Il La risposta A una domanda Dipenderà Da Il contesto In cui hai fatto Questa domanda Quindi È La La meccanica La matematica Più contestuale Del Del mondo Fisico Classico E questa è una cosa Estremamente controintuitiva Ovviamente No Che se io ti dico Questa Questa lavagna È bianca La risposta È sì Se la domanda È fatta insieme Alla domanda Questa lavagna È quadrata E invece La risposta Magari Cambia Con un certo Con una certa probabilità La probabilità Che la risposta Un certo tipo Cambia Se La domanda Invece È stata fatta insieme È la penna rossa Capito Il contesto Cambia La risposta Cambia la probabilità Di dare una risposta A quella domanda E Questo è interessante E Diciamo Quello che Che succede Nel mondo classico E nel mondo quantistica È ancora Poco chiaro In relazione a questo Però Sono stati anche fatti Degli esperimenti Fisici In meccanica quantistica Che dimostrano Che Che La fisica quantistica È più contestuale Della fisica classica Questo è un Un argomento Su cui ho riflettuto Molto Se poi questo ha un impatto Un impatto Su Se questa riflessione Ha un impatto Sulla vita quotidiana Questo non lo so Ma Ma sicuramente Se ci pensi Sicuramente Assomiglia Alla vita dell'uomo Nel senso che Nell'osservazione Degli oggetti fisici Le domande Contestuali Non fanno la differenza Ma Invece nella Sociologia Degli esseri umani Sì C'è altre persone Che stanno guardando Un po' a questo Stanno Provando A usare Il tipo di matematica Usata In meccanica quantistica Per rappresentare Anche Del Delle situazioni simili Che hanno a che fare Appunto Con l'interazione Degli esseri umani Bello Cioè Come si chiama Questa branca Diciamo Contestualità 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 Oppure se previsci Non contestualità Perché alla fine Uno dei due Senti Che libri O blog O fonti di informazioni Consiglieresti Su Sui temi Appunto A computazione Quantistica Allora Computazione quantistica In inglese O in italiano Allora In italiano In italiano Ovviamente Conosco Tantissime persone In Italia Che sono Sono A parte Pionieri Nel campo Ma persone Che stanno Contribuendo Tantissimo Nel campo E Probabilmente Hanno Più Conoscenza Di me Di quello Che potrebbe essere In un buon posto In italiano Per imparare Questo campo Ti posso fare Una lista Di nomi Per esempio Fabio Sciarrino A Roma Che fa Ottica quantistica Come dicevo prima Vittorio Giovannetti Stefano Mancini A Camerino C'è una lista Di Però diciamo Fonti Che chi Ci ha seguito Fino qua Potrebbe andare A guardarsi Perché immagino Che sia altamente Motivato A questo punto O anche In inglese C'è tanto Credo che Chi si interessa A queste cose Poi l'inglese Più o meno Per l'italiano Io andrei Semplicemente Sulla pagina Mi scriverei Computazione Quantistica Sul motore Di ricerca E sicuramente C'è un sacco Di cose Scritte Da questi Scienziati Che lavorano In università italiane E fuori dall'Italia In italiano In inglese Allora C'è un blog Che A me piace Scritto Curato Da Scott Aronson Che è Un scienziato Un informatico Un informatico Teorico Che ha contribuito Molto A composizione Quantistica Che lavora All'università Del Texas A Austin Che si chiama Mi sembra Stetel Optimized Però Di nuovo Scott Aronson È semplice Trovarlo Però Non è Per Per quelli Deboli di cuore Nel senso Che Ci sono cose Tecniche C'è Però Un Forse questo È un Link migliore Per Dare Un'occhiata A quello che è la Compotazione Quantistica Si Chiama Quantum Computing Or Quantum Computation For the Very Curious Per la Persona Molto Curiosa E questo È Una pagina Scritta Da Michael Nielsen Che Anche lui Uno dei Pionieri Della Computazione Quantistica Persona che Lavorava in questo Campo Già negli anni 90 Richiede Un minimo Di matematica Ma davvero Un minimo Un minimo Che si può Che si può In un modo Nell'altro Apprendere Attraverso Wikipedia Senza Senza Dover Senza Dover Avere Una Preparazione Tecnica Mi Sembra Quanto Computing Quanto Computation For the Very Curious Ma Comunque Michael Nielsen Very Curious Sicuramente Si arriva A questa Pagina Ci sono Ovviamente Lezioni Scritte Da Scienziati Le Lecture Notes Le Lezioni In Computazione Quantistica Di John Presky La Caltech Lezioni Più Di Informatica Quantistica Di Ronald De Wolf All'Università Libra Di Amsterdam Lezioni Di Computazione Quantistica Di John Waterhouse All'Università Di Waterloo In Canada Però Queste Sono Lezioni Universitarie Che Richiedono Ovviamente Una Apparazione Matematica Non Vastissima Però Un minimo Di Probabilità E Un minimo Di Quella Che L'agipralineare È Necessario Per Capirle Certo Senti Chiudo Con Una Domanda Da Giornalista Italiano È Conosciuto Bezos Sì Perché Personaggio Cosa Cosa ci puoi dire Di lui E poi ti saluto Che non si è Coperto Da Non so Il segreto Sono Molto Molto Curiosa Persona Molto Molto Profonda Nelle sue Riflessioni Questo è Quello Che Ho avuto Modo Di Di Osservare Di Persona Vabbè Molto Diplomatico Va bene Senti Simone Ti ringrazio È stata Una bella Conversazione Mi ha fatto piacere Insomma Molto distante Del mio mondo Ma sicuramente Interessantissimo Perché poi appunto Si interlaccia Anche con la filosofia Insomma Grazie No grazie a te Ti lascio Alla tua giornata A Seattle Qua ormai è sera Invece Va bene Dai Grazie ancora Alla prossima Grazie Buona serata Ciao ciao Adesso vado a mettermi Ghiaccio sul cervello Grazie a te